Ciao a tutti amici, siamo qui con una nuova intervista e andremo ad intervistare una volta di più il nostro grandissimo attore del doppiaggio Manuel Meli, punta di diamante del doppiaggio italiano e stavolta riguarderà la serie tv The Good Doctor che ha avuto un successo strepitoso. Quanto ci ha voluto per doppiare questa prima stagione di The Good Doctor? Ciao Davide e ciao a tutti i nostri amici. Allora per doppiare la prima stagione di The Good Doctor con delle pause insomma tra un gruppo di episodi e l'altro credo di aver impiegato più o meno due mesi e mezzo o tre mesi. Quante puntate in una sessione di doppiaggio, in tre ore di turno, per ogni turno da tre ore appunto perché si divide in ogni turno tre ore, ricordiamo al pubblico, sei riuscito a fare in una sessione di doppiaggio? Diciamo che in linea generale ho sempre impiegato queste tre ore di turno per fare due puntate, magari capitava che all'interno di uno stesso turno ci fosse un altro personaggio, in quel caso ne facevo soltanto una. Come mai c'è una variazione di interpretazione tra la prima puntata della serie e di questa stagione e tutte le successive? Questa variazione è data dal fatto che la prima puntata come avviene spesso in queste serie tv dove ci sono dei personaggi un po' particolari rispetto al solito, sicuramente la prima puntata è stata più che altro un approccio al personaggio. Quando comunque hai solo tre ore per fare un'intera puntata e il personaggio è così complesso, magari è difficile subito cogliere tutte le sfumature. Invece poi dalla seconda in poi abbiamo avuto, anche insieme al direttore, il fonico e l'assistente, delle direttive di poter cogliere in tutto e per tutto le sfumature del personaggio cercando anche di mettere qualcosa di mio. E quindi da lì in poi diciamo che è stato molto più semplice perché ero più libero comunque di giocare sulle varie interpretazioni del personaggio. Come avete costruito l'interpretazione per quanto fosse possibile nell'adattarlo in italiano? Conto avete lavorato sul personaggio di Sean? Diciamo c'è molto del tuo, hai seguito un gran percentuale dell'originale o comunque c'erano delle direttive specifiche della direzione del doppiaggio ad esempio? Allora come dico sempre quando mi viene fatto questo tipo di domanda, quando faccio qualsiasi personaggio cerco di mettere sempre qualcosa di mio. Anche perché è vero sì che il doppiaggio è una riproduzione fedele di quello che viene fatto in originale ma sono dell'idea che se comunque in un personaggio non metti qualcosa di tuo non rende al massimo. Quindi sicuramente ho cercato di fare mie alcune caratteristiche che Sean ha mostrato. Poi sicuramente l'aiuto del direttore Alessio Bianchi è stato fondamentale perché soprattutto in questo tipo di lavori l'apporto della direzione è importantissimo. E poi ovviamente abbiamo avuto anche il sostegno in questo caso della RAI e quindi diciamo che è stato forse questo più che altri lavori, un lavoro di squadra. Ci sono state delle direttive del regista, della produzione, del supervisore se ce ne sono state o meno di qualche genere oppure era interamente in mano alla direzione e la responsabilità di ogni sfumatura? Il direttore ha avuto carta bianca per quanto riguarda le sfumature del personaggio. Se abbiamo rifatto delle cose in post produzione più che altro riguardavano elementi del dialogo, dell'adattamento ma per quello che riguarda ogni sfumatura del personaggio sono state le direttive di Alessio Bianchi a stabilire poi il lavoro finale. Che differenze emotive e tecniche provi nell'interpretare un personaggio autistico? Essendo un personaggio autistico sicuramente ha tantissime sfaccettature, sfaccettature che possono riguardare l'ingenuità in alcune situazioni, anche una sorta di superficialità che ovviamente non è voluta. Una grandissima sensibilità in alcune situazioni, una sensibilità che lo porta anche ad esprimere sempre davanti a chiunque tutto ciò che pensa senza farsi problemi magari anche di ferire la persona che ha davanti. E sicuramente è un personaggio che va a fondo in tutto quello che fa e in tutto quello che dice, quindi ci deve essere un grande coinvolgimento emotivo. Diciamo anche che però il lavoro mi è stato reso piuttosto semplice per quanto possibile anche dall'attore, da Freddy Heimer che è veramente un attore straordinario che sto seguendo da tanti anni ormai e spero di continuare a seguirlo perché è veramente un grandissimo attore e ogni volta che lo doppio mi sento arricchito anche sotto l'aspetto professionale perché star lì dietro è veramente stimolante. Proprio per il personaggio autistico hai dovuto doppiare molto, correggimi se sbaglio, come si dice, di testa, quindi con una voce più alta. Questo ti ha provocato particolare stanchezza a fine giornata perché comunque magari hai fatto, non so, arrivate a fare 3-4 giorni al giorno di lavoro, ti sentivi più stanco rispetto ad altri ruoli? Beh, sicuramente ho riscontrato più difficoltà, diciamo che in generale comunque, ovviamente non come in The Good Doctor, però in tutti i prodotti in cui mi capita di doppiare Freddy Heimer non tengo le tonalità più basse perché comunque, nonostante lui sia anche più grande di me, vocalmente se tenessi la mia voce risulterei un po' più grande e stonerebbe un po' sulla faccia dell'attore. Però sì, sicuramente doppiare di testa è un po' più stancante rispetto a quando utilizzi la tua voce, però ripeto, il personaggio è talmente stimolante che l'ho sempre vissuto come una sfida e come un modo per crescere sempre di più, professionalmente e umanamente. Ti è venuto di riascoltarti in tv almeno alcune volte e hai fatto dell'autocritica anche in questo caso, come ti trovi soddisfatto con la tua interpretazione? Assolutamente, forse in questo prodotto più che in altri mi fa piacere riascoltarmi, infatti quando mi capita il martedì sera di stare a casa guardo sempre la serie, al di là del fatto autocritico, ma la guardo proprio perché mi piace, mi piace il genere, mi piacciono gli attori, mi piacciono tutti. Non mi capita spesso di dire questo, però sono rimasto soddisfatto comunque della mia interpretazione, anche perché nonostante i turni fossero comunque pieni abbiamo lavorato veramente bene, come una vera squadra, come si dovrebbe fare sempre. E quindi sono molto contento non solo della mia interpretazione, ma dell'interpretazione generale, perché sono stati tutti bravissimi dai personaggi principali ai personaggi di puntata o ai personaggi che magari parlano poco, sono stati veramente tutti bravissimi e questo sicuramente è merito del direttore, dell'assistente e del fonico che secondo me hanno svolto un grandissimo lavoro. Hai doppiato in colonna separata effettivamente tutta quanta la stagione? Oppure qualche volta hai avuto la fortuna, che ormai è una fortuna di questi tempi, di doppiare l'Eggio anche con qualche tuo collega? E se sì, se ti ricordi con chi? Diciamo che ho doppiato sempre in colonna separata, perché anche quando c'era qualche altro collega, ognuno ha fatto le sue parti, quindi non siamo mai stati a leggio insieme, quindi direi che tutta la stagione è stata doppiata in colonna separata, per quanto mi riguarda. Non so se i contratti te lo permettono di riservatezza sui prodotti, ma c'è qualche prodotto di cui puoi dirci, qualche anticipazione di cose in uscita, così da poterti seguire sul momento? Questa intervista capita proprio a fagiolo, come si suol dire, perché sto ridoppiando Freddy Imore in un film per Sky, non so quando andrai in onda, ovviamente poi sui social scriverò tutto, c'è il ritorno di una serie su Netflix, si chiama Salvation, la seconda stagione, sto facendo una nuova serie in costume, si chiama Vanity Fair, dove doppio sempre l'attore di Salvation, diciamo che queste sono le cose che al momento mi stanno tenendo un po' più impegnato, e poi a novembre dovrebbe uscire un film di J.J. Abrams che ho doppiato, un film d'azione, si chiama Overlord. Manuel, noi ti ringraziamo una volta di più per il tuo tempo, anche perché da fuori non sembra, ma veramente ve lo assicuro ragazzi, secondo il settore da vicino da tanti anni, è un'impresa trovare del tempo extra lavoro, veramente un'impresa, quindi grazie tanto Emanuel per il tempo che ci hai dedicato, e ti volevamo chiedere se volevi salutare il pubblico, così come lo saluterebbe Sean. Grazie a te Davide, grazie a tutti i nostri lettori, ascoltatori, a tutti quanti, continuate a seguire Davide perché svolge veramente un lavoro eccesso per il nostro settore, e se in questi ultimi 6-7 anni l'interesse per il doppiaggio e per gli attori doppiatori è cresciuto, è sicuramente soprattutto per il lavoro che ha svolto lui con il suo sito, con i suoi festival, con i suoi contributi su YouTube, sui social, quindi grazie a te Davide. Posso soltanto dire che... Ciao a tutti, sono Sean Murphy, specializzando in chirurgia all'ospedale San José San Bonaventure. Saluto tutti, un bacio!